Il bollino Cassa Edile Award 2023, le aziende premiate per il comportamento virtuoso. Premiate le aziende di Ancia Siracusa con il bollino Cassa Edile Award 2023. Obiettivo di questo prestigioso riconoscimento è infatti quello di valorizzare le aziende che contrastano la concorrenza seleale, distinguendosi per il rispetto delle regole e dei contratti collettivi nazionali. La Solesi S.P.A. ha ottenuto il riconoscimento dal sistema bilaterale della Cassa Edile Siracusa della Cassa Edile Venezia. La Cassa Edile Siracusa ha inoltre premiato le aziende Aliano Costruzione S.R.L., Ard Costruzione S.R.L., Assennato Costruzione S.R.L., Cammisa Costruzione S.R.L., Enedil S.R.L., Nita Costruzione S.R.L., Siri Siciliana Ricerche S.R.L., Sicedil S.R.L. Soddisfazione è stata espressa dal Presidente facente funzione Alberto Di Stefano dagli organi direttivi di Ancia Siracusa.